Penso sia giusto in una partita del genere mettere come titolo il nome di quello che ha fatto andare nei matti un pochino tutti quanti in questi 95 minuti quelli che sono stati Calvarese, un uomo che mi deve qualche anno di vita tranquillamente e un uomo che è completamente nel pallone, è stato completamente nel pallone, ne avesse azzeccata mezza 15 volte, è andato a rivedere con alle volte anche decisioni un pochino così, discutibili. Uno che ti ha fatto rimanere per più di metà di secondo tempo, mezz'ora abbondante mi pare, in 10 per una seconda munizione che ha fatto ridere, per fortuna però poi deciso di compensare dopo aver convalidato il gol del 2-2 all'Inter con un calcio di rigore alla fine. Quindi ragazzi io vedo che molti di voi parlano di coincidenze col 2018, le due partite e il problema è che c'è anche il risultato, c'è anche intanto il 3-2 della Juventus, però probabilmente questa volta si rigirerà tutto contro. Io parto da questo presupposto, non mi faccio nessun tipo di trip mentale, tutto è nelle mani del Napoli e il Napoli può tranquillamente battere una Fiorentina, punto, la Fiorentina, punto, non una, la Fiorentina. Però a prescindere da tutto, per rimanere come quelli dovevi vincere, anche solamente per mettere un pochino di pressione, altrimenti si sarebbe parlato ovviamente del nulla cosmico. Del nulla cosmico, è vero che probabilmente in Champions League non ci andrai per colpe tue, meritatamente, è ok, però effettivamente fino a prova contraria se quantomeno non ci provi vincendo per quanto non dipenda da te, da te dipendono le tue vittorie. Che a prescindere da tutto è sempre anche importante, magari quantomeno per l'umore, anche se ormai c'è ben poco per quanto riguarda l'umore, vincere in tre giorni a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che non è scontato, che l'anno scorso è pareggiato, battere 3-2 l'Inter in casa e per il resto poi nulla. Alla fine oggi hanno gufato noi, domani noi toccherà gufare gli altri e ormai purtroppo è così, quando la solfa non dipende da te è così, però intanto tu dovevi vincere e hai vinto. Se non vincevi, tanti saluti, chiudevamo baracche Burattini, mercoledì dopo la Coppa Italia, perché quello lì fino a prova contraria è un altro torneo da poter vincere ed è giusto farlo finché ne hai le potenzialità, è buona tutto lì. Il discorso per quanto riguarda la Corsa Champions penso sia limitata a questo e più di così penso si possa dire ben poco. E per l'ennesima volta invece ho visto una Juventus che voleva vincere, che ha cercato in tutti i modi la vittoria, anche sul 2-2 in inferiorità numerica, quando sembrava praticamente impossibile, è andata di là. Una volta, e tanto per cambiare il quadrato, dopo aver fatto il gol del 2-1, trova il rigore e realizza il rigore del 3-2 nel momento in cui non c'era più Ronaldo in campo ed è stato giustissimo così, perché Ronaldo non poteva farti il compito che ti avrebbe fatto un Morata per gli ultimi 20-25 minuti di partita che sono stati. Quindi mi è piaciuta quella scelta di Pirlo, sembrava scontata, poteva essere scontata, il punto però appunto, il punto è che si parla di dover togliere Ronaldo, che quindi, oh, sia mai la Maria, sia mai. Non è scontato, diciamo che non è scontato e ha fatto bene, ecco, così come col senno di poi si può anche dire che ha fatto bene a togliere Chiesa, a mettere Demiral, tanto dovevi soffrire, dovevi star dietro, così hai fatto, così dovevi fare e alla fine ti ha detto bene, nonostante per un attimo pensavo fosse finita, perché inevitabilmente un Inter, che era partita a prescindere meglio nel secondo tempo, in più, poi, in superiorità numerica, a meno di 10 minuti dalla fine, trovi il gol del due pari, che a loro non contava nulla, a te faceva tutta la differenza del mondo, sembrava veramente finita, sembrava veramente finita, e quando Calvarese è andato al VAR per convalidare un gol che aveva inizialmente annullato per fallo di Lukaku su Chiellini, ho detto, all'è, è fatta. Ci è andato di là una volta, calcio di rigore, tra l'altro, no, ottenuto per fallo di Perisic, per fallo di Perisic, quello del let's go, con la foto di Quadrado a terra, Quadrado è stato ancora a terra, e tanto per cambiare Perisic, come proprio in quella partita lì, l'ha preso in posti poco gradevoli, perché ci possiamo girare attorno quanto ci pare, ma anche loro, le loro motivazioni le avevano, soprattutto, no, per ribadire la vittoria dello Scudetto, per Conte, per ribadire che la Juventus è diventata grande, grazie a Conte, non grazie al lavoro della Juventus. Probabilmente loro, cioè, sicuramente a differenza di altre squadre che si stanno giocando la Champions League, abbiamo giocato contro una squadra con un certo tipo di motivazioni, no, a differenza delle altre, che magari, no, giocano con i secondi portieri, riserve, perché poi, tre giorni dopo, ci sarebbe la partita decisiva per la salvezza, dove prendono quattro papine anche lì, aperte e chiusa parentesi, sperando di dare un senso ai quattro punti ottenuti dal Benevento contro la Juventus. Noi ne abbiamo buttati via cinque, loro però ne hanno fatti quattro, una vittoria, un pareggio, e niente. In sostanza niente, quantomeno è stata una partita viva, una partita accesa, a quella senza ombra di dubbio, sì, sicuramente Juve-Inter non è mai una partita banale, però sempre con un epilogo del genere, porca Eva, ragazzi, oh, porca Eva davvero, non si può comunque continuare a vivere in questa maniera, diciamolo, perché poi, no, la testa va anche a tre anni fa, no, stessa partita, stesse partite, stesse partite anche allo stesso modo, no, la Juventus il giorno prima, il Napoli il giorno dopo, qui in più mi ci si mette anche lo stesso risultato, con sempre un'espulsione di un centrocampista dell'Inter, ragazzi, però non facciamoci illusioni, davvero, posso capire se è difficile vedendo questo insieme di cose, però purtroppo le cose cambiano, no, nel corso degli anni, anzi, quella volta poi si parlava di Scudetto, adesso per entrare in Champions League, quindi la cosa più importante, senza ombra di dubbio, è cambiata. Però dovevi vincere, però dovevi vincere soprattutto per noi, soprattutto per noi. Il futuro nostro purtroppo non dipende da noi a livello di risultati, però è sempre bello, no, dimostrare di voler vincere e come aveva detto Buffon post Sassuolo Juventus anche oggi si è vista una Juventus che effettivamente voleva andare a vincere ed è quella lì forse la cosa più importante. E poi che cosa accadrà? Può essere troppo tardi, può essere inutile, però si può anche dire banalmente che vincere un Juve-Inter contro poi i titolari, neanche da dire contro le riserve, è sempre bello e allo stesso tempo ti fa mangiare i maroni perché, come tante volte è stato ribadito dai tesserati e dai tifosi, sarebbe bastato un pelino in più in questa stagione, non necessariamente per vincere il decimo, ma sicuramente per stare più tranquilli in ottica Champions, basti pensare alla miriade di punti buttati nel cesso contro squadre che o sono retrocesse o ancora sono lì per non retrocedere, però anche questo purtroppo è un tema che abbiamo toccato tante volte nel corso di questa stagione, con i seconi ma la storia non si fa, non si può cambiare il passato, bisogna cercare solamente di far tesoro degli errori, soprattutto anche progettuali nel corso di più anni, per ripartire con ancora più voglia di vincere a prescindere da come finirà tutto, detto questo io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve!